Massimo, io ho una figlia disabile e quest'anno non abbiamo potuto accedere alle agevolazioni in quanto con l'Ise di Renzi sforavamo i parametri. Semplicemente assurdo. Andrea, a parità di reddito, una famiglia con due figli normale anziché uno solo come la mia risulta più povera di 4.500 euro. Se passare l'impugnativa contro il Tar, io do le dimissioni e lavoro a nero. A un ladro si risponde rubando. Vittoria, i nostri parlamentari hanno mai provato a vivere con una malattia invalidante e 790 euro al mese lordi? È una vergogna. Perché non tagliate i vostri stipendi? Aldebrano, smettetela di prendervela con chi non si può difendere. Fate ribrezzo, ripulsa, nausea, schifo, disgusto. Onorevole di vita. Onorevole di vita. Allora, innanzitutto, onorevole di vita, mi ascolto. Onorevole di vita. Luca, il grado di civiltà di una comunità si misura dal rispetto e dalla tutela. Di questa, verso i suoi componenti più deboli e disagiati. Non c'è più debole o disagiata che una persona disabile. Perché in molti casi, impossibilità da svolgere i gesti quotidiani della propria vita in modo autonomo. Questa tutela si ottiene con tutte quelle normative direttamente discendenti dall'articolo 3 della Costituzione italiana per l'integrazione delle persone disabili, che non sono solo bimbi o anziani, né tantomeno sportivi o artisti. Non abbiamo, in quanto disabile anch'io, bisogno di lemosina, perché siamo cittadini con pari dignità e diritti. Da disabile e legislatore mi trovo in questa imbarazzante situazione di far parte di un Parlamento che non solo non fa i diritti dei più deboli, ma si accanisce contro di noi e il PD meno L si tira indietro contro le proprie responsabilità. E concludo dicendo che chi fa parte della maggioranza, come Ileana Argentin o l'altra ragazza disabile, onorevole Laura Coccia, a cui chiederei di alzarsi e parlare, solo che non le vedo in aula. È ora il momento. Conclude. Concludo dicendo.